Bene, stiamo andando alla grande. 300.000 euro. Qui c'è un assegno che ti aspetta con il tuo nome per un valore di 300.000 euro. Ma noi non vorremmo dartelo. Noi preferiremmo consegnartene uno ancora più consistente. E ti basta una sola risposta per aggiudicartelo. Dai un'occhiata alla domanda. Ora, rifletti pure con calma. Ricordati che non hai l'obbligo di giocare. Puoi decidere di andartene con i tuoi 300.000 euro, ma questa è la tua domanda finale per aggiudicarti l'intero monte premi. La scelta aspetta a te. Buona fortuna. Se compriamo da un antiquario una chiocca, cosa ci portiamo a casa? A. Un lampadario. B. Una fruttiera. C. Un bastone. D. Una piattiera. Telefono a te caso. Hai deciso di utilizzare l'aiuto della telefonata. Facciamo questa chiamata, ma ricordati che il regolamento non ti obbliga a dare la stessa risposta che riceverai. Pronto? Ciao Roberto, sono Gerry Scotti da Chi vuole essere milionario. Buongiorno Gerry, mi fa piacere sentirti. Che posso fare? Non ci crederai, ma davanti a me c'è una persona che ti è molto legata e che in questo momento sta per realizzare un sogno. Un sogno che può valere ben un milione di euro. Ti ascolto Gerry, dimmi. Ci siamo Roberto, ora vedrai la domanda e quattro risposte. Solo una di queste. Corretta. Se capiremo della quattro... Ecco, la chiocca è un tipo di lampadario. Bene Roberto, grazie mille per il tuo aiuto. Ok, Roberto ha detto A, ma nessuno ti costringe a seguire il suo suggerimento. 50 e 50. Proviamo ad aiutarti restringendo il campo delle scelte possibili. Adesso il computer eliminerà due risposte lasciando solo quella corretta ed una sbagliata. Sono rimaste la A e la D. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Preparatevi e cercate di dare il vostro aiuto. Sembra che ci sia una certa prevalenza sulla risposta A. Sembra che il pubblico abbia espresso un parere abbastanza chiaro. risposta finale. Risposta finale. Un'appadana. perché la tua risposta è esatta, il milione è tuo, lo so che sembra incredibile, ma hai appena vinto un milione, congratulazioni! Grazie a tutti!